È importante accorgersi che per scoprire che cosa sia il silenzio non è sufficiente fermare il movimento delle labbra. Il silenzio non è infatti appena assenza di parole, ma è qualcosa d'altro, qualcosa che, come scrive il filosofo Max Picard, sussiste di per sé. Ci sono tante bellissime testimonianze sul silenzio che ci provengono in particolare dall'esperienza monastica. Il tacere è una condizione del silenzio, ma non è ancora il silenzio, scrive qualche protagonista. E ancora, mantenere il silenzio delle labbra non è difficile, basta volerlo. Il silenzio dei pensieri è un altro affare. Tutti infatti possiamo constatare l'esistenza di ciò che qualcuno ha definito il non-stop thinking, cioè quel ininterrotto flusso di pensieri che sempre ci accompagna, spesso confuso e caotico. La mente si sposta come una imbarcazione in balia delle onde, spesso senza sapere dove andare, succube di questo continuo flusso di pensieri in confusione, che si susseguono in confusione. Acquietare il rumore che abbiamo dentro di noi non è facile, ma è certo qualcosa che gradualmente si può imparare. Dunque, apprendere e inoltrarsi almeno un po' nella familiarità con il silenzio può condurci verso orizzonti sconosciuti, portandoci via via verso una sempre maggiore consapevolezza e una sempre maggiore possibilità di un incontro più reale e più profondo con le cose che ci circondano e con la nostra stessa esperienza.